Ehi, Fede! Chi è che sta parlando? Sono io, sono Zegaso! Come Zegaso? Io conosco Pegaso, tutti conosciamo Pegaso, chi è Zegaso? Pegaso con le strisce! Ehi ragazzi, come va? Io sono Fede Nikki! Ehi, sono Stefano, che si è già chiamato Rodeo Stampid! E oggi stiamo qui con un nuovo episodio del 3 giochi in 1! Iniziamo ovviamente da Rodeo, che è stato quello che ha preso più voti dai consolini! Esattamente, siamo in ritardo di una settimana perché abbiamo cancellato il video la scorsa volta perché non ci piaceva! Quindi lo stiamo rifacendo, però sono andato parecchia avanti e quindi siamo con un sacco di cose! Allora, Rodeo Stampid, poi facciamo Potion Punch e poi facciamo A-Day! Abbiamo messo Potion Punch a posto di Pixel Gun, perché Pixel Gun ci stava dando qualche problemino, e quindi lo portiamo poi nei prossimi! In ogni caso, subito sondaggio per i prossimi 5 giochi su cui potete decidere! Ovviamente ne faremo solo 3, quindi votate i prossimi 3 giochi che volete vedere! Partiamo dal Rodeo Stampid che ha spaccato il sondaggio la scorsa volta! È a voglia! Il 63-65% di voti! Ma poi da quello che vedo hanno aggiunto un sacco di cose! Allora, fa iniziare! Abbiamo Zegaso, che praticamente è un animale a rischio di estinzione, ok? Ogni giorno te ne viene proposto uno qua, tu devi riuscire a trovarlo e catturarlo! Sono rarissimi e strabelli! Zegaso è l'unico che sono riuscito a prendere! Zegaso! Zegaso! Sì, si chiama Zegaso! Che te devo dire? Fa troppo ridere, si vedono le sue scintille in tutta l'ozono! Non vedi altro! Pensa quando l'ho visto io per la prima volta! No, ma che cos'è? Non vedi altro! Bellissimo! E poi, l'altro aggiornamento che hanno fatto da quando noi abbiamo smesso di giocare è l'allevamento! Infatti, qua abbiamo un recinto speciale dove metti due animaletti della stessa specie e loro fanno un cucciolotto che poi tu potrai sfruttare! Infatti, noi in giro per i recinti, qua da qualche parte, abbiamo anche dei cucciolotti! Oh, che bellini! Dove sono? Vediamo se riesco a farteli vedere! Sì, questo piccolo che cammina! No, quello siccome è un abitante che è entrato nella gabbia dei leoni a casa! Ma allora non va bene! Eccoli, eccoli, eccoli! Se ne deve andare, non è sicuro! Guarda, vedi questo è un cucciolo e se non sta con la testa conficcata in un palo, vabbè vedi l'altro! È timido! Oh mamma mia, come cammina! Era timido, scusa, non si voleva far riprendere in questo momento, lascialo in pace! Guarda, lo vedi? L'obiettivo oggi è appunto trovare l'animale che sta rischiando di essere estinto, che è un cocodrillo, quindi dobbiamo andare nella giungla! Cocodrilli li possiamo lasciare lì, sono persone cattive! Ma che persone cattive, poveri cocodrilli! Cattivissimi cocodrilli! Guarda, l'ho schivato prima! Oh, ma corre dietro! Esatto! Che bellissimo! Abbiamo una missione, credo di arrivare a 2000 metri entro 60 secondi, quindi fammi concentrare un attimino che cerchiamo di farcela! E sai che cosa ho lasciato pronto per oggi? Anche una missione boss! Quindi abbiamo un boss da catturare, sì, è tipo, mi sa, l'elefante scheletrico, se ricordo bene Bellissimo! Che mi sa che non l'avevamo mai mostrato in video, l'avevamo catturato, perché praticamente in effetti non l'ho detto, ma mi si sono resettati tutti i salvataggi di qualunque gioco, praticamente Doma... Schelefante! Schelefante, ok, ok, un nome un po' particolare! Non ricordo minimamente com'era questa missione, vediamo un pochettino, sono pronta a qualunque cosa! Devo mangiare un sacco di bufalo, così, dove ho sbattuto? Dove hai sbattuto, scusami? C'era una roccia invisibile! Sì, perché non hai sbattuto contro niente, è solo pappato un bufalo, quindi... Non capisco, non capisco, vabbè, comunque devo mangiare tutto il tempo così, fino a quando non compare il boss da catturare! Ok, ok, ok! Quindi è molto molto figo, perché dobbiamo cercare di continuare a far mangiare il nostro leoncino, e quindi... Si sta pappando di tutto, eh! Eh, si sta facendo un bel pranzo! L'ho vero comato! Uh, che rischio lì! Gli aiuto! Non ci volevo proprio per nulla passare in quella zona! Gnam, ok, ci tocca cambiare per forza! Eh, fra quanto compare? Forse era mille metri, eccolo, lo vedi lì in fondo? Uh, sì, l'ho vista adesso! Scusi, ma è un po' troppo veloce! Ma quanto corre! Scusi, venga qui! Ok, l'ho preso, l'ho preso! Per essere un elefante, quanto accidenti corre! È perché è un po' leggero! Vabbè! In effetti, non ho nulla! È alleggerito! No, è bellissimo, mi piace un sacco! Mi piace un sacco, è troppo bello! 3, 2, 1, acchiappato! Preso! È un elefante! È più bellino, è felicissimo! Guarda, guarda, è felice! Guarda lì la faccia super felice! Elda! Ci sta, Elda! Dai, lasciamoli Elda! Mi piace! Ok, animale boss catturato! Adesso vediamo di fare un po' di missioncine e vediamo se riusciamo a trovare la specie a rischio di estinzione! Io la vedo grigia, però noi ci proviamo perché non si sa mai che magari sbuca per farsi vedere dei consulini! Portano fortuna, non lo so, vediamo! Mi sta esplodendo il telefono! Ho notato! Sta scattando tantissimo! Tutto a scatti, tutto a scatti! Vero, aiutami! E che posso fare? Vanno a smettere! Non mi chiedi aiuto! Vanno a smettere di scattare! Il telefono è troppo vecchio, non c'entra niente! Poverino! Prendiamo una tigre per l'allevamento! Facciamo i cuccioletti di tigre! Sì! Oh mio Dio! Dai, continua Steph! Non ti schiantare e fallo continuare a mangiare! Mangia cocodrilli, tutto quello che vuoi! Mani tutto, scappa! Mangia! Ok, fatto, fatto, fatto! A fine gara ci dirà lo vuoi levare? E tu fai sì! E lo levi! Bellini che facciamo i cuccioletti di tigre! Guarda! Adesso ti faccio vedere! Inizia l'allevamento! Ok! Ok! Torniamo all'Geo! Oh che bellina! Una e due! Hanno anche il picnic con le rose! Che carini! Se vedi ci mettono un'ora e faranno un cuccioletto di tigre che noi avremo per sempre! È il momento però di spostarci su Potion Punch! Dove anche lì ho dovuto riniziare da zero! Fare tipo 60 giorni di partite! Sì, hai dovuto riniziare da zero tutto! Dopo averci passato almeno 4 ore a gioco, come minimo lo devo ripetere! Perché quello che succede è che Steph cambia 250 account, flippa tutti i giochi e poi si lamenta che perde i salvataggi! È colpa di Clash Royale perché su Clash Royale avevo un altro account che non uso per nient'altro e allora lì si forma tutto un puttiferio, capisci? Uh ma siamo fini di cosa! Uno, due, tre e vedi? Cos'è? Una mandragola! Sì, e poi ho anche le gemme da vendere e le gemme praticamente loro te le chiedono all'improvviso e tu decidi se venderglielo o meno in base al prezzo che ti offrono! Quindi devi stare concentratissimo! Ah ok, perché ti possono anche fregare insomma! Sì, ti possono offrire pochissimo o tantissimo, capisci? Sì, sì! È molto 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 complicato! Allora guarda, questa la vuole lui, questa la vuole lui! Ok, scusa, guarda, la stiamo cucinando subito un attimino e arriva! Opla, opla, no, sta andando bene anche in video, attenzione! Magari faccio una bella figura che consolini oggi! Quasi pronta, quasi pronta, tenga lei, vedi? 130, tu gli fai sì e lui ti dà un sacco di soldi! È va bene, 130, hai capito un po' quanto valgono? Allora, 130 non è moltissimo ma è comunque accettabile, diciamo! Ok, ok! Allora, donnazione, devo fare velocemente... Vedi, tipo questo mi ha offerto 97 che è ancora più basso, ho capito? Quindi no, quindi no! Esatto, no, mi sto un attimino incasinando! No, non hai fatto una buona... 230 è buonissimo! Quella dagliela, dagliela! Infatti c'è una cosa particolare, se tu noti adesso, guarda la sua barra! Sì! Cosa noti di strano? Che non scende più! Bravissima! Uh, bella sta cosa! Così si può respirare un po' che è bello! Quando gli concedi le gemme, smetti di scendere, 227, tieni amico mio tutta la vita! Cuoricino, rosso, tacchete... Eh, mamma mia, che difficoltà però qua! No, Ferre, aiutami! Allora, calmati un attimo! Lascia dei soldi nel bancone! Ferre, non lo farò mai di lasciare i soldi nel bancone, perché vuol dire guadagnare meno! Eh, l'ho capito! Non accetta di guadagnare meno! Almeno si fa con un po' più di calma! Stef non accetta queste cose! Ah, aiuto! No, non vuole questa, vuole questa! Sto facendo anche una bella figura, Ferre! Più o meno, più o meno! Dai, è andata, è andata! Giornata superata! Scusami però, eh! Io adesso, non vorrei dire, ma ho fatto 2986 soldi in una sola giornata! Quelle gemme ne valgono davvero bene! Eh sì! Cioè, se riesci a venderle a un prezzo alto, ne vale davvero, davvero la pena! Giornata numero 18! Peccato, speravo di fare il boss, perché i boss sono diventati divertentissimi! Ta, ta, ta! Allora, tu vuoi un viole, vuoi anche un marrone! È un marrone! Sei proprio molto, molto antipatico! Scusi se glielo dico, cliente, però non mi sta per niente simpatico! No, 116 è davvero una miseria, se li tenga! Eh, sto facendo un disastro! No, stendendo bene, stendendo bene! Sto facendo un disastro! Un giallo, devi servire! Opla, poi tu vorresti un rosso e tu con una farfallina! Sì, per 46 non ti do neanche una bivita normale, cara mia! Allora, giallo, poi tu vorresti il viola, quindi facciamo scossa, 150 mi spiace, non te lo voglio dare! Poi, farfallina più scossa e scossa, arancione! Opla, 136, no, troppo poco, riempiamo di nuovo qua, diamo questo, rimettiamo a fare questo, farfallina, farfallina, rosso, rosso, sì, vabbè! Ne puoi mettere solo a cuocere una di quelle cose nuove? Sì, perché non le ho potenziate! Eh, sì, ho notato, perché quelle le chiedono parecchio! Assolutamente, sì, ho notato che infatti da quando c'è le ho me le chiedono tantissimo! Solo lui chiede i gecchi, ogni volta che viene lui chiede un gecco, te lo dico! Eh, vabbè, è un vecchio amico fedele, perché infatti quello lì è il mio boss, cioè non il boss, scusami, l'ospite speciale! L'ospite, ecco, non mi veniva il nome, sì, immaginavo perché è diverso dagli altri! Esattamente, scusi, non mi interessa l'aggiornamento! Ah, giallo e blu! Tenga, stiamo guadagnando pochissimo, quindi dai, vediamogli la una! Ok, poi sul rosso così, sul giallo così, cuoricino... Aiuto, può venire sempre ansia sto gioco, guarda, io te lo dico! Di sicuro non è un gioco rilasante! No, cioè, sei sempre super movimentato, super duemila cose da fare! Tenga, tenga, però ti ho detto che sono diventato molto più bravo! Quando giocavamo tempo fa ero scarsissimo, adesso guarda! Bravo! Ho fatto tutto perfetto, tutti super felici, Steph è il migliore, la taverna più bella del mondo! 3.000 gold, sono arrivata a 12.000 totale, ci potenziamo un pochettino le varie cose, e poi andiamo su Hey Day! A modernamenti, andiamo! Ui, gli amodernamenti, così me li dimenticavo! Che bello! Rilanciamo l'hashtag amodernamenti per ricordare! Va bene, va bene! Ti si ricorda di... A modernamenti lo deve scrivere! Per non dimenticare! Giustamente, giustamente, che bello! Guarda, ho potenziato tutto sulle mandragole, dato che ce le stavano chiedendo tantissimo! E guarda, comunque, questo non ce l'ho arrivato! Oh, distributore rosso, giallo e blu, tutto a 4! Gekko alla griglia, a 4 e poco poco! Adesso le radici praticamente a 4! Le mandragole! Le gelatine quasi a 3, la gelatina di forza a 3, miscelatore e serpente a 3, quasi a mezzo, poi 3 e 3! Sono super potenziato e super potente! Eh, niente, ok, andiamo sui dei, andiamo a far vedere la mia fattoria che la scorsa volta mi sa che era a livello 11 e oggi è a livello 24! Abbiamo fatto anche il vicinato! È vero? Quello volevo dire! Adesso ve lo facciamo vedere, abbiamo fatto il vicinato! Sì, 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 non ci sono posti, però... Credo, sì! Credo che ci sia un po' di gente che non gioca, quindi magari qualcosina la kichiamo e quindi si libera qualche posto! E vabbè, perché servono consolini attivi, i consolini che stanno fermi non sono utili né a noi né agli altri consolini che fanno parte del clan! Io non li kicherei mai! Hai visto? È colpa tua! Questa adesso è diventata la mia fattoria, come vedete è livello 24! Ho sbloccato la barca che è una specie di furgone ma più figo, quindi praticamente quando io vado qua nel pontile ci sono degli ordini da fare, vedete, mi avverete quattro ore prima che arriva le cose che mi chiederà, così mi posso preparare! Esatto! E a questo punto io devo completare tutto, posso chiedere anche una mano e completando tutto faccio un sacco di esperienze di soldi e di cose belline! È carino, sì, è molto carino! Però non ho nulla, proprio... Ti com'è ne chiedere degli aiuti allora! Stamattina dovevamo registrare i video e quindi non ho potuto nerdare a sufficienza! Io tra un video e l'altro me le preparo lo stesso le cose! E così si fa! I veri contadini così fanno tra un video e l'altro, 5 minuti... I veri contadini si alzano alle 5 del mattino! Ti prepari tutti gli ordini, vabbè, io penso alle 7, è la stessa cosa, ok? Non proprio, due ore di sonno in più! Allora, qua qualcosa di utile, no? Ok, 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 quindi praticamente mi aveva chiesto delle uova... Le uova, il formaggio, mi pare, e il latte, il latte! Non riesco a fare nulla! Ma chi li aiuti? Così poi un po' te li fanno... Perché infatti poi il bello è quello che il furgone te lo devi fare tutto da solo! Mentre invece nella barca ti chiedi gli aiuti e riesci a completare! E vabbè, per un uovo non riesco a farmelo da solo! Dicevo che al momento dovrei chiedere un aiuto su tutto! Cioè facciamo che chieda gli aiuti sui formaggi e... Secondo te cosa è più difficile? Dai, facciamo su questo! Secondo me il latte! Perché poi le uova le trovi spesso... Vabbè, chiedo anche aiuto del clan e vediamo quanti poi mi aiuteranno totale! Ti dicevo, le uova le trovi spesso nel giornale, quindi se poi ti mancano le puoi acquistare! Mentre il latte è un po' più difficile da trovare! Sì, 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 sì! Allora, raccogliamo tutto il latte qua! Voglio far vedere un attimino tutto quello che ho sbloccato e poi secondo me per il video ci possiamo fermare! Perché tanto poi qua bisogna farmare tantissimo! Eh sì, a voglia, a voglia! E ci mettiamo la vita! Prima di tutto, voi non avevate mai visto né i maiali, né le pecore! Quindi abbiamo maiali e pecore super bellini! Qui adesso possiamo fare un sacco di torte! La torta di carote, la torta con panna, la cheesecake e la torta ai frutti di bosco! Rossi! Poi, eh... Sì? Frutti rossi! Ok, qua avevamo tutte le cose con il latte che conoscevate già! Qui ci sono i popcorn che possiamo fare tramite il mais! Qua invece facciamo lo zucchero! Qui possiamo fare muffin e biscotti! Oltre che il pane! Oltre che il pane! Il panificio! Poi possiamo fare hamburger, pancetta, uova e pancake! E qui invece possiamo fare delle torte salate! Torta di zucca, torta di carote, torta di pancette! Poi se ne sbloccano altre che non ho! Qui invece possiamo fare i materiali per fare i vari vestiti! Che è un'altra cosa fighissima! Sì, 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 sì! Sì, arrivi a fare davvero di tutto! Infine, una cosa che ho sbloccato a livello di livello ma non ho i soldi per poterlo sfruttare è la miniera! Perché c'è anche la miniera e quindi costa 21.000 gold, la sblocherò e da lì potrò fare dei minerali che potrò vendere e sfruttare per un po' di cose particolari che sblocherò un po' più avanti! Quindi per questo video ci fermiamo così! Speriamo che vi sia piaciuto questo tre giochi in uno! Ricordatevi di votare per i prossimi tre giochi del prossimo video! Speriamo che questo, diciamo, format vi stia piacendo perché per noi è super divertente poter continuare questi giochi che per un video intero sarebbero, diciamo, un po' noiosetti ma per me sì, tutti insieme in un solo video sono super divertenti! Sì, 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 assolutamente! E ci fermiamo così! Bene ragazzi, se ci piace così, se ci piace, lasciateci un like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!